Ti sei incuriosito dal titolo di questa ricetta e hai fatto benissimo perché quello di oggi è un grande piatto di pasta con una bella storia dietro. Questo mi è stato insegnato da un amico pizzaiolo con più di 40 anni di esperienza che essendo giovane, parliamo degli anni 80, a 14-15 anni già si facevano centinaia di pizze a sera il personale mangiava quando erano più o meno le 18 però poi un ragazzo giovane a quell'età dopo aver fatto centinaia di pizze la sera verso 12 e mezza, mezzanotte, veniva un grande appetito e allora il pizzaiolo insieme all'aiutante, questo ragazzo allora aiutante si preparavano questo piatto di pasta che me l'ha raccontato così bene che alla fine gliel'ho fatto fare un giorno e mi ha davvero stupito e oggi ve lo ripropongo, semplicissimo, state attenti a tutti i passaggi, provate a farlo e non ve ne pentirete buona visione e un abbraccio a tutti i pizzaioli del mondo Andiamo a preparare questo meraviglioso e semplicissimo piatto di pasta, pochi ingredienti, semplici, genuini e buonissimi qualche pomodoro pelato, ancora a fine novembre ho qualche pomodorino datterino, me ne servono circa una diecina per cui li vado a raccogliere, tre o quattro spicchietti di aglio e li andiamo a schiacciare e a mettere nella padella con un fondo di olio extravergine di oliva non appena l'aglio diventa biondo senza farlo bruciare mettiamo una fogliolina di basilico proprio per profumare l'olio alzate poi la padella per non farlo bruciare deve solo rapprendere quel profumo strepitoso di basilico si deve fondere nell'olio a questo punto l'aglio avrà già dato il suo profumo, lo togliamo e si procede con l'aggiunta del pomodoro pelato questi pochi ingredienti sono quegli ingredienti che poi a fine serata restavano al pizzaiolo per cui un po' di pelati, pomodorini, l'olio c'era sempre, la foglia di basilico tutto molto semplice però c'è un passaggio che in questa pasta farà la differenza e che tra un attimo vedremo si lasciano cuocere i pelati spezzandoli proprio così con la cucchiarella per circa un quarto d'ora, venti minuti al massimo e poi c'è da dire che in quegli anni le pizze che si facevano come tipo erano davvero poche quelle che andavano per la maggiore erano la famigerata margherita, marinara, qualche calabrese, qualche capricciosa però diciamo che non c'erano tantissimi gusti come quelli di oggi e allora questi pochi ingredienti semplici facevano proprio a caso del pizzaiolo abbiamo sistemato con un po' di sale e adesso passiamo a un'altra operazione fondamentale per il gusto di questo piatto prendiamo quei pomodorini appena raccolti e lavati e si vanno a tagliare a metà ok in questo modo qua semplicemente nel frattempo mettete sul fuoco a riscaldare una bella piastra deve essere bella calda, bella rovente perché andremo a piastrare proprio questi pomodorini e il gusto che avranno una volta passati sulla piastra vi renderanno questo piatto davvero meraviglioso in pizzeria questo passaggio ovviamente veniva fatto in una teglia direttamente nel forno a legna a bocca di forno e il pomodorino deve appassire deve togliere tutta la sua acqua e deve rendersi da un lato da dove è tagliato quasi abbrustolito quasi caramellato deve andare così vedete giratele una volta da un lato una volta dall'altro lato verso la fine mettete anche una spolveratina di sale così uscirà ancora di più la sua acqua e rimarrà bello morbido e saporitissimo già questi pomodorini piccoli sono dolci come tipo però così hanno qualcosa in più che farà la differenza fidatevi avete visto la spolverata di sale li abbiamo tolti dalla piastra via con la pasta acqua salata in ebollizione si calano i bucatini quando la pasta sarà a due minuti dalla cottura finale la tuffiamo nella padella così la facciamo amalgamare per bene a questo profumatissimo e gustosissimo sughetto e una volta che l'abbiamo portata a cottura ultimata giusto un paio di minuti deve stare nella padella possiamo tranquillamente passare all'impiattamento a valanga che andremo a fare nel mio tegamino d'alluminio vi ricordo che se volete lo trovate sempre disponibile nel mio sito sfizidicalabria.com oppure mi potete contattare tramite il numero whatsapp in alto a sinistra e a terminare sopra andiamo a mettere proprio quei pomodorini belli morbidi disidratati caramellati chiamiamoli come vogliamo ma avete ben capito questo è il piatto del pizzaiolo stanco che si gustava dopo una grande serata di pizze e soprattutto con i pochi ingredienti che aveva a disposizione sempre nel banco pizzeria si va a terminare ovviamente con un paio di foglioline di basilico che non guastano mai quando c'è il pomodoro e tocco finale importante una bella sbriciolatina di origano profumato selvatico di montagna non erbaccia mi raccomando perché quella poi fa la differenza e poi se vogliamo un goccio una lacrima di olio extravergine di oliva di nuova produzione questo è il piatto semplicissimo strepitoso pazzesco che adesso vado ad assaggiare per voi penso già che riuscite a immaginare quanto può essere buono e semplice un piatto di questa portata guardate qua che bella ragazzi voglio leggere tutti i vostri commenti amm bocca mia fattica panna mannaggia non riesco a masticarla brutto vizio ve lo ripetete sempre avete ragione però è più forte di me guardate qua che forchettata c'è tutto il pomodorino il pelato l'origano intrappolato in mezzo amm oddio ragazzi voglio sapere che cosa ne pensate soprattutto provate a farlo un saluto particolare a tutti tutti i pizzaioli che fanno un grande lavoro e portano in alto la bandiera italiana grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti